Noi abbiamo voluto così coinvolgerci con tutti gli altri nella Chiesa in una preparazione molto concreta nel mondo intero, perché siamo presenti un po' in tutto il mondo, in preparazione del Giubileo dell'anno 2025. Questo incontro è il primo, diciamo così, perché dopo avremo altri che ci mettono insieme dai cinque continenti. È stato preparato fino adesso online e è stato preparato però insieme. Cioè tutto quello che è il programma, che è quello che noi vedremo insieme, che vivremo insieme e cercheremo di vivere in modo come ha fatto il sinodo, la prima sessione del sinodo, nei tavoli, ascoltandolo l'un l'altro fino in fondo alla luce della parola di Dio. Ecco, tutto questo in vista di preparare in questo modo nuovo, in questo stile nuovo, preparare anche questo momento sicuramente molto profondo per la Chiesa, che è il Giubileo dell'anno 2025. Un Giubileo che ci porta molto vicino alla esperienza di Dio oggi e vogliamo che sia fatta bene anche da parte di noi consacrati. Siamo in un momento di riforma, di rinnovamento della vita consacrata, con tanti problemi ma anche con tante cose che stanno cambiando nel senso della sequela di Cristo e della sequela come consacrati, cioè nella forma di Cristo. Però questo per noi deve essere un dono per la Chiesa, dobbiamo respirare, vivere con la Chiesa e per questo vogliamo già subito iniziare. E dopo avremo altri incontri ancora di approfondimento. Eminenza, è interessante la modalità dell'incontro. Ogni paese partecipa con un religioso, una religiosa, un istituto di vita secolare e anche l'Ordo delle Vergine. Che sfide hanno in comune tutte queste quattro realtà? Prima di tutto noi sentiamo che in questo momento tutto il percorso che la Chiesa sta facendo, che ci porta avanti il Santo Padre Papa Francesco, avanti, è un percorso in cui noi anche dobbiamo convertirci a questo stile nuovo di camminare intensamente insieme, convinti che questo è il modo di essere Chiesa. Cioè allora per noi non importa tanto solo la mia vocazione o diciamo che l'altro ha un'altra vocazione e ognuno vive la sua, ma noi tutti insieme formiamo questa realtà della Chiesa. Però questo si impara. In questo momento in cui è entrato fortemente anche tante volte una spiritualità individualista, molto troppo individuale, noi abbiamo bisogno di questo. perché i segni di oggi sono segni di comunicazione, di stare insieme, di camminare decidendo anche insieme. Anche qui nel di Castero, dopo la prima sezione del Sinodo, abbiamo cominciato concretamente a condividere le cose, sia quelle che devono coordinare il di Castero, ma anche tutti insieme, siamo 40 persone. Cioè questo stile nuovo in cui tu sei parte dell'altro, in cui tu cammini con l'altro, in cui tu anche decidere, decidi con l'altro. E questo mi sembra che ha qualcosa che ci darà, diciamo, la possibilità di molti frutti tra poco nel futuro. L'evento anche c'è di mezzo il 2 febbraio, che è il giorno della vita consacrata. Per quale intenzione preghiamo quest'anno? Noi siamo felicissimi perché il Santo Padre ha confermato che verrà anche a celebrare con noi. L'orario sarà, mi sembra, delle 17.30, il giorno 2 febbraio. E noi saremo lì insieme a celebrare questa realtà, naturalmente, della preparazione del Giubileo. E anche, diciamo, con questi valori che il Papa ci ha identificato quest'anno per il Giubileo, che è camminare, essere peregrini di speranza, in un momento in cui è tanto, diciamo, sofferta la vita.